Le sentinelle della preghiera, le targhe della memoria. Da targhetta posta su di una panca in un luogo sacro, che ricorda con il nome e cognome una persona che ha vissuto nella comunità, io lo reputo un atto di grande amore. Dal tempo in cui non ci si sofferma più di tanto, e spesso il ricordo della vita trascossa tra di noi tanti conoscenti scomparre nella nostra mente, questo ricordo visivo in questo luogo induce il fedele che prende posto a coinvolgere nella preghiera quasi inconsciamente il nominativo letto. Ed è anche se non lo conosce personalmente, con la semplice lettura lo avrà di certo riportato tra di noi, anche se per un attimo. A me capita sovente, nel raccoglermi in preghiera in questa chiesetta dedicata a Santo Antonio, anche queste poche panche attraverso queste targhette possono rappresentare un breve percorso della memoria. Il suolo di questa antica chiesetta è stato calpestato dai nostri primi fedeli gioiesi, che nel lontano passato venivano a rivolgere una preghiera al nostro protettore Sant'Ippoglio. Vieri vi ho postato le due targhette che ricordano le due menonne, oggi vi propongo tutti i nominativi, sono sedici, e mi piace interpretarli come sentinelle della preghiera. Nel mio immaginario desidero pensare che durante la chiusura della chiesa tutti insieme si uniscono per rivolgere al buon Dio una implorazione per tutti noi e per tutta la città.